Buonasera, bentrovati a TV7Match con il suo appuntamento settimanale. La scritta è un po' sbagliata, ecco lì, adesso l'ho cancellata, va bene. Bentrovati a questo appuntamento settimanale, ovviamente tratteremo di temi molto importanti. Il primo è quello del lavoro, ieri è stato il primo maggio, dunque questa sera parleremo del lavoro, della difficoltà di trovare lavoro, della crisi soprattutto per i giovani che c'è per il lavoro. Cercheremo di capirne i motivi, cercheremo soprattutto di capire se ci sono le possibilità che la gente riesca a ritrovare quel lavoro che è stato perso in tutti questi anni per colpa sia della crisi che anche per colpa della politica. Ne parleremo con i nostri ospiti, poi parleremo anche di Berlusconi, rientra in politica, non rientra, Berlusconi difficilmente fa fatica a sparire, dunque cercheremo di capire anche questa sera nella seconda parte della puntata cosa succederà con il nuovo, chiamiamolo così, Berlusconi. Ne parleremo, dicevo, in questa puntata con i nostri ospiti, ma soprattutto con voi da casa che potete telefonare, potete mandare messaggi, insomma come di consueto uso di rio, oltre che serva, anche una puntata piacevole. Con inizio e saluto Nicola Rampazzo di Padova 2020, buonasera, grazie di essere con noi. Enrico Cirigotti, segretario confederale del CGL di Padova, grazie. Grazie a Federico Bruson per dirifare Padova. Buonasera. Grazie a Batte Anna, candidata a Padova per il PD. Grazie a Professor Manocasi, che lo vedo. Adesso sta arrivando, è di là, fra poco arriverà Massimiliano Barison di Forza Italia. Saluto Daniela Ruffini, l'altra a Padova, una città in comune, candidata a sindaco di Padova. Buonasera Daniela. Arriverà a minuti anche Claudia Case di Padova 2020. E saluto anche Roberto Graziano del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera davvero a tutti. Allora avete sentito i temi, sono due. Il primo e quello più importante, Professor Manocasi, è quello del lavoro. Se la regia mi aiuta, andiamo a vedere la prima grafica dove ci fa vedere soprattutto quante ore di cassa integrazione ci sono state a Padova e provincia. Parliamo in questo momento di Padova, poi vi daremo anche i dati nazionali. Però nel momento andiamo a vedere su quelli di Padova, un lavoro che è sempre più difficile a trovarsi. Ci sono state 21 milioni di ore di cassa integrazione, praticamente quasi l'8% in più rispetto al 2012. Già il 2012 era un dato pauroso. Ma il primo problema è 21 milioni di ore di cassa integrazione pagati ma non utilizzati. Esatto. E quindi il problema sta che in tutti gli altri paesi le persone che vanno in cassa integrazione vanno quantomeno, vengono utilizzati per fare dei corsi di aggiornamento, che ormai la tecnologia va velocissima e quindi è il momento giusto per poter ricevere, per carità, un pessimo stipendio, ma quantomeno aggiornarsi ed essere pronti successivamente per poter entrare, poter essere rimesso nel mondo del lavoro con dovuta capacità. 21 milioni di ore di lavoro significa che la nazione è in crisi, è una crisi ormai che ritengo definitiva perché né questo governo né i prossimi governi saranno in grado di rimediare a quello che sta succedendo. Se mancano le aziende o se le aziende non hanno la possibilità di sviluppare il proprio prodotto o di poterlo commercializzare non si riuscirà a superare la crisi. La commercializzazione del prodotto è determinata dal fatto che c'è una concorrenza sleare da parte di altri paesi che hanno un costo di lavoro praticamente zero e che mettono sul mercato prodotti magari meno concorrenziali da un punto di vista della qualità ma sicuramente da un punto di vista del prezzo. E questo è naturalmente tutto l'Oriente che è un'area in fase di sviluppo e questa cosa viene accettata sotto il termine di globalizzazione. Che cosa sia questa globalizzazione al di fuori di quella che è l'intuizione facciamo tutti insieme le stesse cose in concorrenza uno con l'altro in realtà è una tecnica per spostare la capacità produttiva dai paesi consolidati dove hanno costruito la capacità produttiva erano costruita bene per spostarli in altre zone dove c'è meno concorrenza e soprattutto c'è meno controllo della qualità e della qualità del lavoro e quindi poi ci sono vittime, ci sono stragi come abbiamo visto in Pakistan, come abbiamo visto in altre parti. In Cina non si dice ma sembra che qualcuno si butti dal terzo piano di qualche fabbrica, per esempio quello che fa l'iPad per la Apple, no? Fabbriche che contano un milione di operai che lavorano da 12 a 16 ore al giorno e che ricevono 70-80 euro mediamente al mese, contributi compresi. Questo è il fenomeno che stiamo affrontando, quindi non possiamo nasconderci dietro la globalizzazione o dietro a una crisi che prima o dopo si risolverà. Questa crisi o va presa per tempo con competenza o non si risolverà da sola, anzi. Ecco, professor Marcos, quello che stai dicendo lei, volevo chiedere un'altra cosa, aggiungerla. In America, e proprio nell'ultima settimana, nell'ultimo mese, anzi, ha avuto un incremento di lavoro, hanno trovato occupazione parecchi giovani. Questo vuol dire che poi, a tempo da evito, questa occupazione che ha avuto l'America si può riflettere... È la politica che sta facendo il presidente americano, quello di invertire la tendenza di portare le aziende verso la Cina o verso l'Oriente, invece facendole restare in America e quindi aumentando quello che è il PIL, quello che è la capacità produttiva e quindi la ricchezza del paese. La ricchezza del paese è fatta di denaro, il denaro è un'invenzione dell'uomo. Poi l'invenzione delle invenzioni è l'euro, che è ancora più invenzione del denaro normale, che era legato alla base aurea. E quindi ci troviamo in una situazione che è incontrollabile, perché non abbiamo gli strumenti per conteggiare quello che sta succedendo. E chi li ha, comunque, non li dice. Saluto Massimiliano Barrizondi, Forza Italia, buonasera, grazie di essere con noi. Allora, chiedo alla Gia, se vogliamo vedere il primo call così tanto per capire un attimino di numeri, che vi faccio vedere i numeri di Padova e la provincia di Padova, così riusciamo anche a fare un ragionamento logico poi con la CGL e con tutti gli ospiti questa sera, soprattutto anche in prospettiva di trovare il lavoro, che il lavoro ritorni, perché che ci sia crisi, lo sappiamo ormai tutti, ne parlano tutti, ogni giorno ci sono notizie sempre allarmanti, però come si fa a ritrovare questo lavoro? Parlano in tanti, però sta di fatto. Aumenta il dramma sociale della disoccupazione, andiamo pure su, e della mancanza di lavoro, con ben 39 mila padovani e padovani disoccupati, rispetto ai 13 mila del 2007, con un tasso di disoccupazione che dal 3,2% per crisi ha raggiunto oggi l'8,7%, consegnando a Padova il primato negativo fra tutte le province del Veneto e con un tasso di disoccupazione giovanile che dall'11% per crisi è arrivato al 32,2% o di anno. Daniele Rofini, vedo che fa così con la testa. Sì, sono dati drammatici questi. Sono dati che ci dicono che anche la nostra provincia è all'interno di questa crisi economica e sociale e purtroppo però questi dati si potevano evincere già dal 2008, insomma da quando poi sono state fatte alcune scelte che hanno ancora di più portato il nostro paese nello stato in cui è oggi. Io però prima di entrare nel merito dei dati padovani, volevo riallacciarmi al discorso del professor Kasen che ho trovato un po' contraddittorio perché lui giustamente ha parlato della globalizzazione e ha parlato di prodotti che non si controllano o che sono di poco pregio, di poca qualità. Ha fatto però un esempio che non ha queste caratteristiche perché l'iPad della Apple non mi risulta essere un prodotto diciamo che non ha le caratteristiche o le qualità di un prodotto di qualità. Io penso invece che la globalizzazione se non la mettiamo insieme al profitto noi non riusciamo a spiegare come mai ci sono queste discrasie così grandi tra i paesi emergenti e i paesi invece cosiddetti l'Europa piuttosto che gli Stati Uniti. Guardate che in Cina o nei paesi in via di sviluppo le persone hanno bisogno di lavorare ma non sono mica gli imprenditori soltanto del luogo che fanno i prodotti a minor prezzo e poi li commercializzano che siano di qualità o meno nel mercato internazionale o mondiale. Ha fatto l'esempio del Pakistan io mi ricordo la strage di un anno fa in Bangladesh in quel palazzo in cui morirono migliaia e migliaia di persone e di chi, di dove erano quegli imprenditori? Di treviso. Ci sono delle vertenze sindacali che ci sono in piedi oggi in quei paesi che reclamano giustamente giustamente un risarcimento per quei morti e la parliamo di persone che vengono pagate uno, due, tre, massimo cinque dollari al giorno e allora la globalizzazione non si spiega se noi non parliamo anche di profitto e il profitto viene prima di tutto in una società ormai dove tutto è possibile tutto è liberalizzato addirittura ci sono delle agenzie nel nostro paese che incentivano il fatto che le aziende vadano via in più c'è una tassazione oggi che è totalmente fuori controllo e questa è colpa anche delle politiche che sono state fatte c'è una tassazione nei confronti dei lavoratori che è enorme e anche di alcune fasce di impresa che tu non puoi rendere omogenea le imprese non sono tutte uguali non sono tutte uguali per grandezza non sono tutte uguali per il prodotto che ti offrono per la qualità del lavoro che c'è dentro e tu non puoi fare questa responsabilità della politica include anche il sindacato? ma io guardi al sindacato perché se no lei pende solo da una parte io sono iscritta alla CGL ho 42 anni penso di essere iscritta da 30 anni più o meno insomma di essermi iscritta da giovanissima ancora da precaria ho fatto anch'io tantissimi anni avrà un po' di responsabilità che il sindacato ha io ai sindacati dico che non hanno colto forse anche loro fino in fondo la prospettiva in cui si voleva portare questo paese e molto spesso, non tutti molto spesso hanno pensato che chiedere di più chiedere di più sempre di più ai lavoratori avrebbe portato un miglioramento delle loro condizioni di vita questo non è così ormai sono 20 anni che ce lo diciamo gli stipendi dei lavoratori italiani sono tra i più bassi d'Europa la liberalizzazione del mercato di lavoro non ha portato un posto di lavoro Daniela Ruffini poi abbiamo tanti osi la domanda era secondo lei oltre agli imprenditori e oltre alla politica il sindacato ha delle responsabilità in questa crisi oppure no? no, nella crisi il sindacato non credo che abbia la responsabilità nel rapporto lavoratori dipendenti ha delle responsabilità? ma io penso che ce l'abbia soprattutto per quella parte di lavoro giovanile che è totalmente fuori da qualsiasi regola e che molto spesso si fanno finta di essere lavoratori autonomi pensiamo ai giovani con le partite IVA e che non sono tutelati da nessuno Massimiliano Bariso io vorrei che poi da questa discussione voi visto che siete nella politica al termine o a metà quando volete voi cosa dicete voi? avete qualche proposta per i lavoratori per trovare lavoro, per come fare perché la gente si aspetta questo perché ripeto di lamentere le ha sentite tutti allora è evidente che la crisi è una crisi che deriva da tutta una serie di problematiche che stiamo vivendo e quindi per affrontare questo tema bisogna dire che ci sono tutta una serie di fattori che hanno portato alle difficoltà che oggi stiamo attraversando Padova in modo particolare la provincia delle 100.000 partite IVA praticamente ogni 10 abitanti abbiamo una partita IVA e quindi è evidente che il nostro è un territorio che soffre maggiormente perché 100.000 partite IVA se andiamo a vedere sono tutte piccole e medie imprese piccole e medie imprese che vivevano su due settori il primo era il mercato interno e quindi erano legati ad attività che venivano date verso le famiglie del territorio la seconda attività prevalente era un'attività terziaria verso le grandi aziende soprattutto noi abbiamo un forte collegamento con la Germania e chiaramente da una parte la diminuzione della disponibilità economica delle famiglie ha contratto la quantità di lavoro nel territorio dall'altra la Germania nella crisi ha fatto un'azione di portare dentro quella che era la produzione che esternalizzava fuori e quindi ha messo in crisi tutta una serie di aziende quindi è un territorio che soffre l'unica valvola di sfogo che in questo momento c'è ed è evidente è quella dell'esportazione perché fortunatamente abbiamo delle aziende che hanno dei prodotti di eccellente qualità che oggi riescono ad affrontare a superare la crisi nonostante siamo su un paese che non ha un terreno fertile per fare impresa non ha un terreno fertile perché lo sappiamo tutti abbiamo il problema del costo del lavoro che è al 120% sul costo netto che rimane in busta paga lavoratore quindi 1000 euro in busta paga lavoratore corrispondono a 1200 euro che l'imprenditore deve pagare rispetto al 70% della Germania e quindi questo è un problema il problema della burocrazia, del costo dell'energia e tutte queste belle cose chiaramente in un sistema globale dove gli investimenti si spostano laddove il profitto è maggiore noi purtroppo in questo momento ne siamo penalizzati perché se il territorio oggi è in difficoltà nell'affrontare la produzione perché è legata al mercato interno l'unica alternativa che potremmo avere è quella di attrarre investimenti da fuori ma gli investimenti non arrivano in Italia perché il profitto è basso e quindi si spostano in altre parti del mondo detto questo io con la mia esperienza ho avuto la possibilità di vedere comunque che ci sono aziende importanti e da qui secondo me bisogna partire che vanno aiutate e sostenute per crescere però bisogna che ci siano delle regole diverse rispetto a quelle che abbiamo oggi ossia noi non possiamo appesantire la burocrazia o il costo del lavoro in rapporto al numero di dipendenti che ha un'azienda perché questo significa che è arrivato a un certo livello di dimensione aziendale l'azienda si blocca e non ha più nessun interesse a crescere perché non ha un guadagno che è proporzionale il suo partito è stato anche responsabile di questa situazione il suo partito è stato responsabile di questa situazione ma io credo che la politica in generale finché le cose andavano bene nessuno si accorgeva del ruolo della politica nel senso che le aziende lavoravano producevano la politica dal mio punto di vista si preoccupava poco della crescita del paese nel momento in cui l'Italia si è aperta alla globalizzazione ci sono state tutta una serie di problematiche che si sono aggiunte per il fatto che la produzione si è spostata fuori e ci si è accorto che è mancata una politica industriale del paese che non c'è mai stata in Italia e che oggi ci penalizza perché se noi andiamo a vedere quelli che sono anche nel padovano abbiamo interi settori che negli ultimi anni sono spariti guardiamo per esempio il settore del tessile il settore del legno e mobilio il settore del fotovoltaico questi sono settori che sono morti perché non c'è una politica industriale del paese cioè la politica non ha tracciato quella che è una rotta di produzione del paese perché se non puoi sul fotovoltaico ad esempio dare l'incentivo e poi toglierlo saluto Claudia Case di Padova 2020 buonasera Claudia buonasera Giorgio tre donne siete stasera tre donne con sei uomini una bella lotta insomma il 50% anche qui siamo raggiungendo la parità un po' la volta Anna si sta guardando ma siete in tre donne insomma tre donne con sei uomini Enrico Ciligotti siete responsabili come sindacato un po' di questa situazione oppure no voi siete solo quelli che riuscite a sistemare tutte le cose qui non è responsabile nessuno no beh intanto bisogna chiarire meglio la domanda forse perché se parli del sindacato in generale generale è una domanda in generale ovviamente perché io rispondo per la CGL di Padova o comunque nazionale io francamente non credo che ci siano delle grosse responsabilità cioè nel senso che noi abbiamo cercato di gestirla questa crisi qua di stare al passo dopo di che le leggi non è che le fa il sindacato qualsiasi sindacato le leggi vengono fatte in Parlamento il sindacato cerca di dialogare casomai con la politica ma un pezzo importante della lezione sindacato quindi può anche prendere decisioni col governo se il governo ha la cortesia di dialogare col sindacato magari sì però purtroppo da un ventennio circa non è che i governi che si sono succeduti abbiano dialogato tantissimo col sindacato spesso e volentieri ci si trovava con un decreto legge attuativo il sindacato ha dialogato di più insomma di rispetto ai governi sono d'accordo nel senso che spesso e volentieri ci si trovava con un decreto legge attuativo dal giorno dopo e ci si trovava a tamponare se vogliamo dirla in maniera anche banale insomma per cui va bene dopo di che qualche magari forse qualche azione potevamo farla anche in maniera pincesima insomma però come sindacato parlo per la CGL almeno dal 2008 in poi credo abbiamo fatto sette scioperi generali a livello nazionale una decina di scioperi a livello regionale provinciali manifestazioni quello che riuscivamo a fare e proporre ci rivolto lo sciopro non è che risolva tutti i problemi no assolutamente no assolutamente no però lo sciopro è l'estrema razio per tentare di forzare anche alcune decisioni che a livello governativo vengono imposte spesso e volentieri noi abbiamo chiesto noi abbiamo chiesto e abbiamo voglio dire prendiamo anche il governo attuale insomma no cioè quando c'è un premier che dice vabbè noi presentiamo la nostra riforma del mercato del lavoro diamo tempo un mese per eventuali controproposti perché se siamo d'accordo se siamo d'accordo bene se no io applico quello che non è che sia tanto differente dai governi precedenti il premio ha dato 80 euro in più a 10 milioni di lavoratori insomma se tanti dicono che non sono che non è vero poi anche qui bisognerebbe mettere nel merito ma vuol dire che è il nostro piacere ma voglio dire per carità sono 25 mila padovani non ho capito sono 25 mila padovani che hanno giufruito di questi 80 euro che poi bisognerebbe andare a vedere se davvero arrivano gli 80 euro e poi soprattutto da dove arriveranno questi 80 euro posso aggiungere una cosa a questa cosa qua perché per carità gli 80 euro sono buoni non metto in discussione io vorrei capire guardarle un po' più da distante alcune operazioni perché se contemporaneamente poi si fanno delle azioni di tagli o di aumentare tasse o comunque si va ad applicare ancora una volta per l'ennesima volta perché siamo non è che si è cambiato tanto quando si parla di pubblica amministrazione all'inizio si parlava ancora dei tagli lineari dopodiché per fortuna cosa di questi giorni qua insomma non è così per fortuna però vorrei capire dopo alla fine di tutto quanto mettere gli 80 euro insieme a altre azioni che farà il governo perché se poi a me danno 80 euro ma per avere gli stessi servizi che avevo prima devo pagarne 120 a sto punto qua è meglio che non me li diano gli 80 euro non so se sono stato chiaro li avrebbe vestiti in un'altra maniera è meglio che te li diano gli 80 euro comunque il problema sono tutti gli altri problema sono tutti gli altri ma il problema è avere un lavoro a fine mese questo è il problema infatti assolutamente quello che noi stiamo dicendo quello che noi stiamo dicendo ormai da tanti anni è che in Italia si continua a fare delle leggi si continua a fare delle leggi sul mercato del lavoro che però di fatto non creano lavoro perché il problema ma non sta qua l'hanno diminuito ma non solo noi parliamo diminuito l'80% forse oltre degli ammortizzatori sociali di tipo passivo partiamo con la liberalizzazione delle aperture domenicali fermo perché altrimenti non abbiamo un tema alla volta perché altrimenti andiamo fuori Claudia Case stava replicando quando diceva forse sindacati di fronte a un 80% forse oltre degli ammortizzatori sociali in Italia sono di tipo passivo e sono indispensabili anche quelli parliamo di di cassa integrazione di mobilità cioè la persona sta a casa ha un tot numero di mesi dove percepisce un X% dello stipendio spesso l'80% allora vediamo dei casi eclatanti come l'Italia dove ci troviamo piloti che prendevano 10.000 euro che per 7 anni portano a casa l'80% io non ho visto i sindacati strapparsi i vestiti di fronte a cose del genere ma parliamo anche di realtà vicentina realtà aeree vicentina è la stessa cosa invece di 7 anni erano 5 anni parliamo di contratti che hanno diversi trattamenti cioè chi nell'ambito commerciale ha un trattamento chi in un altro ambito ha un altro trattamento cioè uno ha X anni l'altro magari ha 8 mesi allora i sindacati di fronte a una contrattualistica è diversa solo perché il lavoratore è diverso magari un'azienda con meno di 15 dipendenti e più di 15 dipendenti ha meno mensilità parliamo di 7 anni signori in Alitalia 7 anni 10 mila euro 8 mila euro al mese per 7 anni allora queste cose non possono esistere si dici un concetto così poi mi risponde un secondo solo fanno finire perché non ho capito allora e questa è la mobilità che fornisce lo Stato italiano se andiamo a vedere in Germania questo è quello che è il supporto di tipo passivo cioè le tutele che giustamente lo Stato dà quando una persona rimane a casa primo punto secondo me non dovrebbero esserci differenze tra un contratto e l'altro secondo punto perché investiamo tanto nel supportare la persona che sta a casa e poco niente investiamo nel rintegrarla se guardiamo in Germania l'inverso l'80% per il reinserimento il 20% giustamente per supportare la famiglia la persona che è a casa ma noi non possiamo invertire i due fattori perché cosa succede che la persona sta a casa e si crea un lavoro in nero si crea un disadattato non si rinsirerà mai più una persona che rimane anni a casa allora l'investimento deve essere fatto per reinserirlo addirittura se l'azienda chiude ed è in difficoltà la persona in Germania cosa succede sono pochissime le persone che stanno a casa ma questi sono dati che fornisce la provincia di Padova alla mano dati proprio su carta li possiamo commentare domani allora cosa succede c'è un preavviso di sei mesi l'azienda si rivolge allo Stato lo Stato prende in consegna la persona e gli trova un lavoro nell'arco di quei sei mesi spesso anche prima e viene reinserito e questo è un guadagno per lo Stato prima di tutto per lo Stato e poi per la persona a livello sociale è fondamentale perché noi oggi abbiamo persone a casa abbiamo famiglie distrutte perché ci sono i genitori a casa e qual è è un danno sociale enorme forse la differenza intanto tra la Germania e l'Italia Daniela Lofini facciamo parlare tutti così sentiamo la risposta però su questo è importante perché altrimenti si fa un calderone tanto in Germania c'è il reddito minimo di cittadinanza che è un ammortizzatore sociale uguale per tutti e poi quello che dice lei si applica a seconda dell'azienda e a seconda del livello di formazione del lavoratore che in quel momento si trova ad affrontare la legislazione tedesca sul lavoro la conosco abbastanza secondo punto quindi non solo la Germania investe sulla formazione ma c'è anche un livello uguale per tutti che è il livello che è il reddito minimo di cittadinanza che nel nostro paese non c'è ma c'è un'altra cosa anche in Germania perché chi viene formato per trovare un lavoro significa che il lavoro c'è quello che manca al nostro paese perché la Germania in questi anni ha investito in ricerca in innovazione ha mantenuto le sue aziende lì e ha fatto anche altre cose sul mercato del lavoro ad esempio la riduzione dell'orario di lavoro che nessuno più ricorda ci ridotta la risposta e ha portato anche all'estero qualche azienda Ruffini non le ha tenute tutte lì e io vorrei spiegare in tempi non sospetti qual era il rapporto per esempio nella Fiat il rapporto della cassa integrazione la Fiat otteneva la cassa integrazione in tre mesi sì e tre mesi no e loro cosa faceva? faceva un'iperproduzione in quei mesi metteva in cassa integrazione gli operai e incominciava a vendere e continuava a vendere le macchine così alla fine dell'anno aveva pagato il 50% degli stipendi gli altri avevano pagato la cassa integrazione e gli operai erano con uno stipendio molto basso questi sono i giochini in Germania ma non perché io ho prezzi tedeschi e tutt'altro ma quando una cosa viene fatta bene bisogna darne atto e il consiglio d'amministrazione il 50% della Volkswagen è del sindacato i fondi pensione sono investiti dentro la Volkswagen certo perché c'è la previdenza complementare dei lavoratori ma Marchionne ha fatto la stessa cosa no io no io i miei fondi me li tengo perfetto per rilanciare la Chrysler Marchionne ha utilizzato i fondi pensione degli operai e ha rilanciato veramente la Chrysler adesso devono tutelarsi chiaramente non è che si può dare così a piene mani la piena fiducia bisogna controllarlo ma i sindacati devono stare dentro l'azienda noi fuori dalla porta a me spaventa uno sciopero e il fatto che il sindacato dice siamo arrivati a fare lo sciopero generale vuol dire che si sono impiccati da soli e stanno impiccando l'Italia questa è una logica che andava bene negli anni 50 quando c'era una mentalità diversa e c'era un'economia che stava crescendo e andava bene così il sindacato non è che sta sbagliando deve aggiornarsi si è trasformato il mondo se io vado in banca voglio non questa perché non abbiamo frequenze in altri posti ma se voglio prendere questa azienda e portarla in Romania vado in banca e mi danno tutti i consigli di questo mondo anche se vai in regione glieli danno ma non solo mi finanziano anche per andare via allora c'è qualcosa che non funziona e questa cosa allora abbiamo dei sindacati e dei partiti che ci raccontano una cosa e invece abbiamo una situazione che è completamente diversa allora io la funzione di queste trasmissioni scusate le facciamo per far capire alla gente come sta girando il mondo così si rendono conto se non continuano ad essere presi in giro io apro solo i 24 ore e sono 24 ore di balle perché solo i 24 ore non sei mai accorto che stavano andando a velocità ultrasonica in una crisi che era mostruosa quella del 29 tutto sommato nel tempo risulterà un'inezia salvo che non vogliano trasformare questa crisi in un rilancio attraverso una guerra speriamo di no allora Anna Abate il tema l'ha capito io vorrei parlare di Padova nel senso del allora aspetta di Padova faccio vedere l'ultimo passaggio dei dati se la legge vi manda anche il crollo il secondo crollo così andiamo a vedere perché di Padova adesso andiamo a leggere anche la seconda parte così le do i dati completi della crisi che c'è a Padova nel lavoro eccolo qui insomma un quadro pesante oltre a quello che abbiamo letto prima ovviamente che se lo ricorderà un quadro pesante che coinvolge tutti i settori a partire dall'industria padovana che è chiuso anche il 2013 con un'ulteriore contrazione della produzione meno 1,8% nonostante una variazione positiva registrata negli ultimi mesi dell'anno dovuta in larga parte all'export come diceva prima il nostro sindaco di Forza Italia ma che per dimensione e per assenza di impatto sull'occupazione non è tale da cambiare il segno di una situazione che dopo la caduta vertiginosa registrata in tutti questi anni vede ancora la produzione industriale padovana se andiamo su spero non si sia bloccato vede ancora la produzione andiamo su dalla regia o è finita qui se mi dite qualcosa in forte crisi in forte crisi si è bloccato si è bloccato adesso in diretto succede anche questo però prego poi Ivorossi mi ha messo il cialo come professore Ivorossi mi ha messo il cialo Ivorossi ha messo il blocchetto però andiamo prego Abate si allora intanto vorrei dire qualcosa di positivo forse perché sono pedagogista clinico formatrice quindi mi piace parlare alle persone ovviamente non si nasconde la verità massima trasparenza però cerchiamo anche di essere positivi perché immagino anche che chi da casa ha perso un lavoro in cassa integrazione insomma la situazione è già pesante quindi diamo anche dei dati positivi intanto a Padova c'è stato un incremento del PIL del 4% e si parla di io vorrei parlare di Padova come un motore della ripresa cioè vorrei che Padova diventasse fosse un motore della ripresa e i temi in cui posso vedere questa ripresa sono nel mio caso quelli che sono a me cari e quindi parto a parlare dell'agricoltura biologica faccio un esempio e dico che ad esempio a livello nazionale i consumi di prodotti alimentari sono fissi se non in calo dovuto alla crisi mentre per quanto riguarda l'agricoltura biologica abbiamo una crescita del 20% abbatte il problema è compresso sa perché parlo di agricoltura biologica certo se lei guarda solo il lato positivo mi fa anche piacere però l'unico dato positivo l'ha detto prima è l'export tutto il resto è un po' io so che faccio sorridere però di questi temi non se ne parla mai e vorrei dare voce a questi temi proprio per chi è a casa e che mi segue perché se no è ripartito così diamo anche tutto meno l'1,8 nonostante una anche se ho perso una variazione positiva registrata negli ultimi mesi dell'anno dovuta in larga parte all'export ma che per dimensione e per assenza di impatto sull'occupazione non è tale da cambiare il segno di una situazione che dopo la caduta vertiginosa registrata in tutti questi anni vede ancora la produzione industriale padovana a livello del meno 24% rispetto al picco precrisi dell'aprile del 2008 questo fermiamolo qui il crawl grazie meno 24% abbatte non è stato un dato vorrei che quell'ingredito fosse dovuto al fatto che molte aziende padovane stanno per andarsene i motivi ne discutiamo ma forse proprio per questo che dobbiamo parlare di locale e di conosciuto e di relazione con i produttori perché non mi sembra di aver detto una cosa tanto fuori dal contesto posso finire? grazie l'unico dato l'unico dato nazionale lo dico l'unico dato nazionale un primo timido dati di oggi scusatemi dati di oggi un primo timido segnale di inversione di tendenza della disoccupazione soprattutto giovanile è registrato in marzo anche in Italia ascolti bene e con un tasso sempre molto elevato 42,7% ma per la prima volta in calo in febbraio pensate aveva toccato 42,8% vuol dire che dal 42,8% siamo passati al 42,7% lo chiamiamo miglioramento se questo è un miglioramento questo a livello nazionale mi sembrava di capire che si parlava di globalizzazione di esportazione dei prodotti e credo che comunque il locale il realizzato in Italia ma non perché non è il realizzato in Italia è l'incontro tra il produttore e il consumatore è un incontro che è fatto di una relazione ci chiediamo perché anche la crisi di questi prodotti anche italiani ovviamente chiediamoci il perché io sono anche formatrice bisogna anche andare un po' alle cause l'economia sostenibile e l'economia solidale non è per niente in crisi anzi è in totale crescita vuol dire che i consumatori hanno evidenziato un forte bisogno quanti giovani sono stati assunti guardi so che moltissimi giovani vengono assunti in questo tipo di imprese e la cosa più confortante che a me piace dire è che diventa intanto che è un lavoro etico perché è un lavoro organizzato dove si dà la possibilità ai giovani di avere un lavoro qualificato e io lo chiamo anche un lavoro valoriale il giovane crede in questo tipo di imprese dopodiché fa famiglia e si inserisce in un sistema economico sociale giusto perché quante situazioni ci sono state in questo visto che parlava di Padova per merito di quello che sta dicendo lei guardi non ho un dato di un numero preciso da dirle però le posso dire che è in crescita e questo è un dato positivo di rispetto a noi di rispetto a voi è una provincia di Padova di Padova la provincia con più disoccupati tra i giovani in tutto il Veneto Esatto, ci rivolto a parlare con tutti che andranno ancora a parlare. Ma questo è vero, lo sappiamo e dobbiamo cercare di fare qualcosa per trovare un'occupazione, come si è detto, per questi giovani. Facciamo parlare tutti, abbiamo anche... Vediamo la politica, cosa faranno tutti i 83 milioni. Deve parlare sia Federico Bruson che Nicola Rampazzo che Roberto Graziano, però abbiamo anche tante telefonate, perché l'argomento ovviamente è un lavoro interessante. Noi cerchiamo di passarle, augurandoci che i nostri telespettatori siano davvero sintetici nel porre la domanda ai nostri ospiti. Sentiamo il primo, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera, mi chiamo Silvano, dalla provincia di Vicenza. Ecco, sediamo l'audio studio da Vicenza, ho capito, non ho capito il nome. Mi chiamo Silvano, dalla provincia di Vicenza. Prego Silvano. Ecco, buonasera. Buonasera. Allora, intanto volevo far presente che se tutto viene dall'esempio, anche dentro il sindacato ci sono dei problemi, perché se uno va a leggersi il Corriere dell'Economia del giorno 2, del 12, del 2013 ancora, trova che un signor Bonanni si prende 7 mila euro di pensione. Ora, 7 mila euro di pensione penso che non ci sia nessun lavoratore dipendente e neanche quadri a livello intermedio dirigenziale che li prende. Poi, nella trasmissione da gabbia, verso le ore 22 e 30, le 22 e 20 di domenica, è venuto fuori che le organizzazioni sindacali incalmano qualcosa come un miliardo e sei tra tessere e patronati. Il bilancio, e si parla sempre dell'evasione degli imprenditori, il bilancio lo fanno in maniera tutta particolare, ovviamente, e qui non si capisce bene, non si sa nemmeno bene quanti siano anche di immobili. Quindi, anche se da qui dovessimo guardare, ci avrebbe che si faccia un esempio a potere. C'è stato anche un'indagine da parte dell'amministratore per essere la carta. C'è questo problema. L'impresa può diventare competitiva e può investire, qualora noi dagli 800 miliardi che abbiamo di costo dello Stato andassimo a 400, perché giustamente si parla della Germania, ma la Germania con 85 milioni di abitanti, 86, costa 500 miliardi lo Stato. Allora il nostro Stato dovrebbe costare 400, questa è la cifra grosso modo. Mi dite voi come si fa a sostenere questo Paese in queste condizioni? Questo Paese è destinato nel giro di poco tempo a fare la fine di Argentina, perché lasciamo perdere i titoli di Stato, che ci sono tutti dei trucchi finanziari che è difficile da qui spiegare, ma un titolo da far andare dal 5 al 6% basta solo di spostamenti a livello finanziario. La borsa è come la russa, è preguita in tessia di andare al casino. È stato chiaro, grazie. Non lavorare il casino riesce a fare dei miracoli, ma non ha nulla a che vedere con l'economia reale. Allora, qui, questi due problemi, soprattutto di tagliare 400 miliardi di soldi... L'ha detto, è stato molto chiaro, poi le risponde il sindacato dove vanno quei soldi il sindacato. Grazie dell'altra parte, sediamo in un'altra. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Mi chiamo Gertin Davide e parlo della provincia di Padua, Montegrotto. Prego, signor Davide. Io vorrei chiederti una cosa, ci parla di mancanza di lavoro. A Padua è stato presentato un progetto per il CERS con i pannelli solari, che ridurrebbero la produzione dei pannelli solari sui tetti e aumenterebbe la funzionalità dei pannelli solari. Perché il nostro sindaco, già non nato, che poi è diventato ministro dello sviluppo, non ha portato avanti questo progetto con la provincia di Padua e ha fatto diventare funzionale questo progetto affinché i costi del montaggio dei pannelli sui tetti delle case si ridurressero con l'inserimento del CERS nel sistema che avrebbe aumentato la funzionalità e anche la produzione di sale di energia. E allo stesso momento è stato negato ai giovani un posto di lavoro. Perfetto, grazie. Allora, risposta al telespettatore, poi risposta a questo. Rapido, perché altro non è il telefono. Rispondo a Silvano. Allora, siccome ho visto anch'io facendo tapping domenica sera sto passaggio qua e purtroppo, e sono contento anche di chiarirla. Allora, il miliardo a cui faceva riferimento la trasmissione sono entrate che arrivano per rimborsi che fa il servizio fiscale, i CAF, e il patronato, che svolgono servizi al posto dello Stato. Il problema in Italia è che se continua a tagliare sempre sul pubblico e poi abbiamo i patronati alla mattina che fanno i servizi, che dovrebbe fare il servizio pubblico, l'Inps, va bene, ma che non è più in grado di farlo, non perché, ma perché hanno tagliato. Qua a Padova 40 persone in meno all'Inps di Padova, quindi qualcuno alle pratiche di disoccupazione, di maternità, di legge 104, deve farle, le fa il sindacato gratuitamente, anche ai non iscritti. Allora, queste cose qua, per legge, perché è una legge, hanno un rimborso dallo Stato che tra l'altro adesso è stato appena tagliato. Sui CAF, l'ultima manovra economica, obbliga i CAF a scannerizzare tutti i documenti che si allegano nelle dichiarazioni dei redditi, scontrini fiscali della farmacia compresi, e la CGL di Padova quest'anno spenderà circa 138 mila euro in più per nuove assunzioni, perché scannerizzare tutti i documenti ci vuole più tempo, ci vuole anche apparecchiature nuove e più personale. lavora il sabato compreso, fatte due conti, quindi quei soldi là vanno, probabilmente neanche non bastano, vanno a compensare questi costi. E i 7 mila euro di pensione di Bonanni, quello che diceva il nostro telespettatore? Purtroppo mi da Bonanni, non posso mica rispondere. Certo, no, volevo pensare a sapere. Il nostro telespettatore chiedeva dell'energia, del fotovoltaico, del che cosa... Beh, intanto avrete capito che i mondi che mi accompagnano sono quelli dell'economia solidale e quindi dell'efficienza energetica in termini di sostenibilità ambientale. Quindi ovviamente il solare fotovoltaico, i gruppi di acquisto solidale di energia sono importantissimi e vanno incentivati nelle misure giuste, in modo che tutte le famiglie possano risparmiare sulla bolletta e nello stesso tempo fare un favore, dico io, alla nostra Italia. In Italia non c'è sufficiente investimento nelle energie alternative, che non significa solo solare, e bisogna iniziare a maturare questa coscienza ecologica, direi. Federico, sento, bisognerà, bisognerà iniziare e andiamo sul pratico. Cioè la gente, ripeto la domanda, alla monotonia quasi, cioè la gente vuole trovare il lavoro, dovete trovare, voi siete giovani, la parte della politica, volete intervenire, però bisogna che date delle idee, dei progetti, dei programmi alla gente che è senza lavoro, soprattutto i giovani. Certo, beh, io sono candidato in comune a Padova, il comune sapete bene che non ha una vera e propria materia nel quale il comune può decidere le materie specifiche del lavoro. Ivorossi ha detto che nei prossimi 5 anni troverà 5.000 posti di lavoro. Ecco, i 5 anni l'ha detto, io dico. 5.000 posti di lavoro si possono trovare creando un comune attrattivo di investimenti avendo delle idee. Noi ad esempio come prima cosa che abbiamo messo nel programma elettorale è la questione dell'utilizzo degli spazi per il co-working. Il co-working è l'utilizzo attraverso delle associazioni che creano incubazione di lavoro. Ad esempio, un giovane che oggi vuole aprirsi una partita IVA come prima spesa iniziale è quello di avere un ufficio. Ecco, con tutti gli spazi comunali che ha il comune di Padova a disposizione, avere un ufficio insieme con altri lavoratori è una cosa che si fa già ma non è conosciuta. Lo fanno delle associazioni che non sono conosciute e che non hanno una rete all'interno del comune perché il comune non promuove queste attività. Il co-working è la prima cosa. No, allora... La mela di Newton... Sono molto contenta di sentire del collega che parla di co-working perché è importante. La mela di Newton è una delle associazioni che lo fa e sono a conoscenza. Però non è una cosa che molti sanno e non sanno qual è la potenzialità di aprire un ufficio avendo costi ridotti perché si ha a disposizione una segreteria insieme con altri, avere a disposizione ad esempio l'avvocato per aprire le pratiche oppure il commercialista insieme. Ma questa è la mancanza di comunicazione o perché l'interduttore non si forma? No, no, è la mancanza di comunicazione perché oggi si dice creiamo 5.000 posti di lavoro e non si dice perché e come. Noi diciamo, il comune di Padova deve creare delle aspettative nei confronti degli imprenditori e di chi vuole produrre nella città di Padova. Quindi noi diciamo, prima di tutto, una riduzione della COSAP per fare attività commerciali anche per breve periodo. Quindi per quanto riguarda il turismo, i mercatini, queste cose qui. E' una cosa rapida questa idea? E' una cosa rapida perché si tratta di una materia prettamente comunale. Noi riduciamo le tasse per chi vuole creare attività economiche itineranti dentro il comune. Riduciamo le tasse e vediamo se riusciamo ad essere attrattivi. Oppure lo riduciamo, come diceva la collega che parlava prima di agricoltura. Di agricoltura. L'agricoltura a Padova paga i MU come gli altri comuni della città. Allora noi diciamo, l'agricoltura a Padova può pagare meno tasse? Perché se vogliamo cambiare anche le tipologie di reddit di produzione, proponiamo l'agricoltura. Ma lo so l'impressione che io ho è che prima delle campagne italiane si parla così tanto da ascoltatore. Poi quando si va ad amministrare una città importante come Padova diventa tutto più complicato. Però la questione degli spazi è fondamentale. L'utilizzo degli spazi è quello che è la leva del comune. Gli spazi pubblici sono tantissimi. E' importante, ma sai cosa è fondamentale? Che non ci sono soldi. perché il lavoro c'è... No, no, ma ci sono gli spazi. Ascoltami, non ci sono soldi. Se uno va in banca, non ha finanziamenti. Chi ha i soldi li tiene fermi perché ha paura e per cui non li utilizza. Appunto, non ci sono soldi. Tu dici che il comune non può fare niente? Ti rispondo così. No, io non sto dicendo che non ha delega. E' l'unico movimento che ha inserito nel suo programma la moneta complementare. Cosa vuol dire? No, no, mi dispiace, non è vero. Non è vero che è l'unico. Evidentemente. Benissimo, l'importante... Bravissima. La moneta complementare è indispensabile farla partire ma può iniziare da appena Padova 2020 e vincerà le elezioni. Come? Una moneta complementare dove il comune di Padova garantisce le persone fisiche, le partite IVA e le società che possono acquisire, che cosa? Un credito, cioè liquidità. Parliamo di strutture esistenti a livello nazionale. Faccio un esempio, un esempio fratto. Un'azienda entra in un circuito di questo tipo. Padova 2020 e vince le elezioni. Cosa succede? Io ho bisogno di soldi. Succede che tu, ad esempio, Giorgio, hai un'azienda e entri in un circuito, bisogna scegliere quale circuito. Attraverso i buoni. No, non attraverso i buoni, finisco. Ricevi un finanziamento pari a 40 mila euro se sei un S.P.A. ad esempio o pari a 20 mila euro se sei un S.R.L. Ma perché lo ricevi? Perché tu sei un'azienda garantita dal comune che ha dei beni a magazzino. Quante aziende in Veneto hanno il magazzino pieni di beni? Devo avere un capitale, insomma. Non un capitale. Devo avere un capitale. No, no, no. Non è così. Questo è un mercato che esiste. O lo conoscete o non lo conoscete. Allora, un'azienda chiede di entrare in questo circuito e dà un credito di anche 40 mila euro. 40 mila euro. Che può spendere? No, può utilizzarli in qualsiasi cosa. Può pagare le bollette, può comprare scarpe, può traspenderli anche in un supermercato se vuole. Questi finanziamenti vengono dati anche alle persone fisiche in proporzione ovviamente. Cosa può fare il comune? Può fare da garante per le aziende. In questo senso il comune, se entra nel circuito, cosa succede? Che le aziende pagano le tasse al comune in crediti, in euro crediti, in padova crediti, in quello che si chiameranno. non usando gli euro. Gli euro li tieni in tasca. Sì, ma devono rischiere tutti perché succede a questo momento. No, no, esistono già aziende del genere, con migliaia di aziende all'interno. Esiste in comune, esiste a Roma una cosa che non è fatta a livello locale. No, no, no. No, no. No, no, no. Non so. Non hai capito niente. Facciamo così, lo spieghiamo ancora meglio. Ancora meglio. Perché soprattutto che per noi... Faccio un esempio concreto. Io ho un'azienda, questa azienda ha rifatto tutto l'impianto di riscaldamento, di condizionamento in crediti. non ha tirato fuori un euro e ha detto io posso dare questo servizio, benissimo. Quando il circuito mi trova dei clienti e prendono questo servizio, glielo darò e ripagherò quello che ho preso. Parliamo di centinaia di migliaia di euro che un'azienda può investire se è credibile. Ma chi dà questi crediti all'azienda? Il comune, chi dà questi crediti all'azienda? È un circuito, è come fosse una banca. Esatto. Ma così facendo, noi, il comune, toglie il potere alle banche che oggi non danno i finanziamenti. Claudio, domanda per capire, come fa uno a ricevere questi crediti? Entra in circuito. Per entrare in circuito deve pagare qualcosa? Dipende dagli circuiti, a volte ci possono essere 1.000-2.000 euro di ingresso, a fronte di 40.000 euro di credito. Che il comune, ad esempio, potrebbe lui investire e pagarli per l'azienda. Il credito che io ho nella mia azienda lo posso spendere nei confronti di chi ha altri crediti? Lo posso spendere dentro il circuito, chiunque entra in questo circuito e se ce ne sono pochi di circuito... Oggi c'è un circuito, ad esempio in Italia il più grosso che c'è, che c'ha migliaia di aziende, paga anche le bollette dell'Enel, ci sono le utenze dentro. Per farlo era per spiegarlo i nostri rispettatori. E se il comune di Padova entra e deve entrare, perché deve dimostrare che è serio e crederci, e deve tutelare i suoi padovani, potrebbero pagare anche le tasse al comune in questo modo. E il comune asfalterà le strade così, e il comune rifarà le scuole così, e così mettiamo in piedi l'economia. Questo è importante. Chiudo nel dire un'ultima cosa, scusate, poi dite quello che volete. Padova 2020, nel progetto che cos'ha? Inserire la moneta complementare e inserire il marchio Made in Padova. Perché cosa succede? Le aziende si trovano liquidità e il comune dice, bene, io ti supporto, ti faccio da garante e tutto, però attenzione, ti incentivo a investire su chi produce a Padova. Quindi marchi, beni Made in Padova. Se io sono al supermercato, compro la pasta asciutta con scritto Made in Padova, perché l'ha fatta al vicino. E questo crea azienda. Poi serve anche lo spazio per il ragazzo che comincia. Ma il ragazzo che comincia? Abbiamo nello spazio. E poi di sapere che ha un credito. Non che dopo il primo anno comincia a pagare le tasse, che si è indebitato fin qua. Certo. Da bisogno di un credito. E il comune può farlo. Vengo a spazio per Roberto Graziano. Cosa ne pensano del Movimento 5 Stelle di queste idee di Padova 2020, che ha detto la Claudia Kasen. E se è una cosa che anche è nei vostri pensieri di fare una seconda moneta, con i credito in questo caso, per una città come Padova, per iniziare a risvoltare l'economia, a far riprendere l'economia più che risvoltare. Ma guardi, in linea teorica ci può trovare anche abbastanza vicini, nel senso che comunque abbiamo capito che i profitti ormai sono destrutturati. Cioè, vale a dire che non sono legati al prodotto che tu stai vendendo, ma tutta una serie di sequenze che vanno in giro per il mondo e che tornano aumentati in una certa percentuale. Quindi, fondamentalmente, che il reddito non sia più legato a un prodotto che stiamo facendo e quindi che cada dentro la trappola anche il nostro dipendente che perde il lavoro, questo è evidente. L'abbiamo visto dalle analisi e le analisi sono queste. Senza dovere, diciamo così, aumentare quest'analisi, io credo che il territorio nostro non soffre solamente perché manchi espressamente il lavoro verso l'estero. L'estero sta trainando la nostra macchina che ancora sta funzionando. Io ho molti clienti, vendo, faccio il venditore, vado a trovare i clienti. Per questo serve la liquidità qui. E quindi vedo che le aziende che vanno sono di un certo tipo. Cosa succede? Succede che, secondo me, il reddito ha preso un'altra strada. Ed io posso anche trovarmi d'accordo sul fatto che se noi vogliamo, però poi parliamo di modello economico, quindi ci addentriamo dentro una strada che non so dove ci potrebbe portare. Sono paroloni, servono cose concrete. Poi dal Movimento 5 Stelle, dai. L'avete detto voi, io sto solo dicendo, quella moneta che vuole tirare fuori è un altro sistema economico. È un cambio merci tra aziende che hanno servizi e prodotti. Non si chiama cambio merci, si chiama cambio di modello economico. Lei da un modello finanziario mi passa a un modello, diciamo così, di tipo keynesiano. Cioè Keynes che ci ha portato fino a oggi. La gente non capisce, è il cambio mezzo merci. Perché si va a lavorare. In concreto io vi dico una cosa solo. Non è così. Poi alla fine di queste belle, visto che parolone non le volete sentire, non ve le dirò, però bisogna dire che si chiamano così, perché chi sa cosa è un modello economico... Però diciamo che il Padova ha un'idea e la propone al cittadino Padova. La vostra idea qual è? Il piccolo paese è quello di partire dalle cose semplici. Tipo? Che mi trovo d'accordo che un posto di lavoro creato è un posto di lavoro creato. E magari se ne possono anche creare due e poi tre e via così, vuol dire che il progetto... Come Graziano? Noi in agricoltura vogliamo andare, nel senso che, secondo il nostro punto di vista, un comune può avere una risorsa immediata trovare le quadrature di un cerchio intorno a un primario, perché se un primario non parte, e visto che l'agricoltura è abbastanza già un po' partita... Sì, però Graziano, vi scusi, ci sono qui vicino, zona industriale e cappanoni vuoti. Non solo Padova nella provincia. Io sono di San Giorgio delle Pertiche, vivo là, ho i cappanoni vuoti, ma ho anche tanta terra in colpa. E quindi mi preoccupo di entrare. A San Giorgio delle Pertiche, però Padova, ha anche delle zone con case, con gente e con tante altre cose. In città, in centro a Padova e anche prima periferie, i negozi sono quasi tutti vuoti o parecchi vuoti. Lei mi risolve questo problema? Non posso certo dare la parola magica per riempirla, però se vuole sentire qual è il nostro obiettivo, è quello di cercare di mettere in moto un po' alla volta un'economia che comunque si sta tenendo abbastanza insieme, perché è un'economia che da sempre è virtuosa per il suo principio. Cioè, il fatto di avere dell'agricoltura che non è scesa così in valori numerici come è scesa l'industria, vuol dire che questa agricoltura va vista un po' in un certo modo. Poi magari a voi non vi interessa, però fondamentalmente il mio paese che magari mi sta ascoltando in interesse. Ma anche l'agricoltura serve liquidità, serve liquidità per poter investire e comprare. Ecco, vengo alla liquidità visto che abbiamo poc'anzi appreso che il piano agricolo, il pac nuovo lascia speranze, nel senso che lascia una lavorazione di green, per chi non sa che cos'è il green, è tutta una serie di aree verdi dove si può lavorare a livello di giardinaggio un po' più, cioè di strutturazione del verde spinto. C'è una bella idea, però non voglio ne criticarlo, però mi sembra poco, mi sembra riduttivo. Ma cominciamo dal poco, perché io ho visto che con tante belle parole qua non si è trovato un posto di lavoro, manca a pagarlo oro. Quindi fondamentalmente incominciamo a fare delle cose una alla volta e fatte in una certa modalità. Esiste la possibilità di fare dei consorzi, ci sono degli agricoltori che non cavano un ragno dal buco da un campo, dobbiamo cercare di mettere insieme queste speranze, perché di questo si tratta, di speranze. Cioè nessuno dà speranze perché nessuno dà soldi. Allora senza soldi può darsi che con un po' di speranza si possa veramente fare qualcosa, perché abbiamo degli esempi in altri paesi europei dove non avevano soldi ma tanta speranza e sono riusciti a farcela. Parliamo dell'Irlanda, dell'Islanda e quante altre altre economie che hanno vissuto peggiori momenti del nostro. Io mi scollerei un attimo dell'idea che comunque sia solo l'industria il canale trainante della nostra economia. Noi abbiamo un terziario avanzato molto spinto che sta soffrendo le pene dell'inferno evidentemente perché se crolla il primario dell'industria... Graziano, mi chiedo scusa una domanda se la Claudia Casen ha fatto con Padova 2020 una proposta, ha detto facciamo questo e l'ha spiegato. Il Movimento 5 Stelle dice noi abbiamo l'agricoltura, domani c'è delle elezioni, cosa farete? Più trattori, più macchine per la terra, cosa farete in maniera pratica perché poi bisogna trovare il lavoro, cosa farete? Questa è la domanda che ne faccio. In concreto noi siamo dei cittadini autonomi per cui non è che abbiamo un dettame unilaterale cioè fate questo perché non lo diciamo noi. Diciamo che il nostro gruppo ha messo insieme attraverso delle serate e tematiche un'idea di poter costruire un nuovo impianto di agricoltura che è completamente diverso da quello del seminario e le grandi semine di grano. Inizio di far riprendere l'economia. Sì, soprattutto partendo dalle tipologie di specie nostre. Tutti conoscono il modello keynesiano, nessuno conosce il modello Schrapp. Infatti con Keynes non c'entra niente. Il signor Schrapp, che era ministro della finanza tedesco ha inventato quello che ha spiegato la Claudia prima. Il modello che Claudia ha spiegato prima funziona perfettamente in Svizzera quindi non possiamo pensare che sia una bubola. È una cosa estremamente normale. Ma siccome noi abbiamo difficoltà a entrare in questa... Perché è difficile da capire. Cioè bisogna entrare. Vi faccio un esempio banale. Il sistema, come diceva Claudia, di condizionamento di questo ambiente, non di questo, ma di tutti gli studi, è stato fatto in cambio crediti. Noi abbiamo dato delle cose, ma non è che io devo trovare mio partner per fare lo scambio. Io metto una sorta, chiamo Pozzo di San Patrizio, e poi automaticamente posso andarmi a comprare, per esempio aderiscono a questo circuito, ma ce ne sono molti altri, aderisce Italo, quello dell'alta velocità. Quindi io posso comprarmi i biglietti con i crediti e continuare e quindi aumentare lo scambio. Non solo, ma se io ho qualcosa da vendere, non è che devo cercare io nel Pozzo di San Patrizio, c'è un'organizzazione che mi cerca il partner che ha bisogno. Come sono finiti i crediti? Ma no, perché io continuo a... Non le finisce mai. No, io continuo, ma è chiaro che non si può trasformare tutta l'economia in questa maniera. È una parte dell'economia che vuol dire l'esubero della produzione, oppure il magazzino, oppure posso anche in questo momento avere un mercato che si ferma e quindi io continuo a vendere perché ho possibilità di. Questa operazione fu inventata da Schacht, che poi fu il finanziatore dell'attentato famoso di Hitler, quello che hanno fatto perlomeno 20 film, e questo ha creato il volano dell'economia tedesca che dal 1933 al 1936 si è passato da 7 milioni di disoccupati a 200 mila. Ma non l'ha fatto solo a livello interno, l'ha fatto a livello anche internazionale, quindi c'era questo scambio continuo che ha portato a sì che la Germania arrivasse a un'economia abbastanza forte, purtroppo, per innescare la seconda guerra mondiale, ma era colpa di un altro. Poi è stata copiata da Paypal, che praticamente quando tu compri in eBay, compri in eBay, vendi in eBay, non usi mai i soldi, quindi fondamentalmente la stessa cosa. Cioè non è come lo chiami il discorso, è un sistema, è un modello. Allora quando lei mi applica un modello, io non so lei dove va a toccare, perché poi bisogna vedere se qualcuno... Quello che sta facendo la Cina. Se abbia o no. Sto dicendo che la Cina sta facendo così, sta cambiando, facendo cambio merce, per esempio si sta comprando, e lo dico perché ne ho contezza... Se ne può fare di tutti i colori, guarda. Sì, si sta comprando l'Africa, tutta intiera. Noi siamo andati in Africa a sparare per conquistare l'Africa, sono andati là con tutta la merce che hanno in esubero, e la stanno cambiando, e stanno comprando intere piantagioni, per esempio di iotropa, di palma d'olio, che consente di prendere questo prodotto, sono delle noci, si tritano, con dei... Che fanno biocombustibili anche. Si fa, non solo, si può usare come alimentazione, ma lo metto dentro il... Il servatoio della benzina, non lo so. Sì, è come il diesel. Quindi io posso andare tranquillamente, ed è meno inquinante invece degli altri prodotti. Ma noi purtroppo stiamo ancora a guardare dentro casa, cercando di risolvere il problema dentro casa, senza guardare fuori, e vedere quello che sta succedendo. E stanno succedendo delle cose impressionanti fuori. E noi siamo qui che cerchiamo di risolvere dei problemi... C'è un po' di paura, C'è un po' di paura. Che è positivo, gli 8-80 euro al mese, sono positivi, ma non creano economia. Creano uno sbazio economico, una compensazione. Ma non sufficiente per avviare. Bisogna creare delle altre strutture economiche, e questo sta naturalmente alla politica, a trovarle, ma soprattutto c'è una cosa, che io dissi ancora 5 anni fa, prima della crisi, e in modo da discutere anche col generale Ramponi, dicevo, vanno messe le regole. Abbiamo fatto una moneta senza regole e un'Europa senza regole. La Merkel se ne è accorta, perché i cinesi stanno importando padri solari a un decimo di quello che vendono i tedeschi, che producono i tedeschi. Allora, se questa operazione di apertura delle frontiere andava tarata gradualmente, non avremmo trovato questo sbalzo nell'avere una capacità, una liquidità notevole da parte nostra e un basso costo e una concorrenza reale da parte delle altre aziende. Telefonate, sentiamola, se ci sono ancora, perché i poverini è un pezzettino che sono lì, sentiamola prima, pronto! Buonasera, con chi parliamo da dove? Se c'è. Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo da dove? Sì, buonasera, sono Ernesto da Pordenone. Prego Alberto. Stavo seguendo qui la vostra trasmissione e siete bravi perché giustamente evidenziate questo grosso problema, però il problema è tutto quello che stiamo discutendo, sono solo dei contorni, dei tagliativi, perché quanto costa un dipendente in Italia? Costa circa 2.500 euro, 1.2004, 1.200 di paga, 1.200 di tasse, pertanto che adesso il nostro Presidente del Consiglio tolga il Senato, tolga le province, tolga i subespecchi, che è giusto toglierli, non si indirizziamo. A quanto arriveremo? Arriveremo a 2.000, a 1.500, a 1.100, però, luglio dell'anno scorso, si è incendiato con lo stabilimento del Bangladesh che produce vestiti per una casa italiana, vengono parli di 30 euro al mese, qui nel vicino oeste, Slovenia, Croazia, Serbia, vengono parli di 300 euro al mese, è ovvio che io come imprenditore chiudo lo stabilimento qui e lo delocalizzo, se hanno i metodi interni in quei paesi, è ovvio che porterò fuori, quindi qui blocchiamo tutto, blocchiamo la produzione interna, blocchiamo i consumi, blocchiamo tutto, perché il motivo è solo, perché nel 2004 la CEE purtroppo ha voluto togliere i dazi, i dazi sono leve indispensabili a bilanciare i mercati, perché ogni nazione ha un suo tenore di vita, l'Italia tenore di vita è di 1.000 euro al mese, in Slovenia è di 200, in Cina è di 70 euro, ogni stato i dazi erano delle leve per bilanciarli, vogliamo capirlo o no? Che dobbiamo rimettere i dazi, dobbiamo ripartire così, perché se rimettiamo questi, ci si tratta di guardare il lavoro qui, altrimenti cosa? Una volta una serie a provolta, in Italia costava 50 euro, in Cina costava 10 euro, ci mettevano 40 euro, di Dazio, e arrivavano su 2,50, a questo punto qua le compro, comunque quell'italiano, e mantengo il lavoro qua. Perfetto, grazie. Questa è la loro, e l'altra cavolata che siamo andati a inventarci, è l'invenzione dell'Europa Unita, noi vediamo che 100 chilometri più a est di noi, c'era la Jugoslavia, un grande stato, adesso è Serbia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Spogna, 100 chilometri più a est, c'era la Cecco-Slovacchia, un altro grande stato, adesso è Cecco e Slovacchia, 100 chilometri più a est di noi, un impero, la seconda potenza mondiale, bla 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 bla, adesso è Russia, perché si sono disfatti? Perché questi agglomerati di stati non funzionano, e ora visto che questi agglomerati di stati non funzionano, noi siamo andati a fare un agglomerato di stati, con banche diverse, regole diverse, stipendi diversi, cioè quando c'è le lire, l'operaio di primo o di seconda, che c'è dato la pazza per 50 anni, per milan, e le regole sono uniche, grazie, è stato chiaro, grazie, la basso, altrimenti lei non si ferma più, è partito, il nostro telespettatore di Pordenone, che lo ringraziamo, della telefonata, non lo fermiamo più, sono d'accordo anche io con i tazzi, però dico anche, poi c'è Rampazzo che deve parlare, che c'è anche un problema, il Madden Italy, lo scartate tutti, ma è importantissimo, e non lo sfruttiamo come dovrebbe essere sfruttato, sentiamo un'altra telefonata, se c'è ancora, pronto? 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 Buonasera, non ti parliamo da dove? Sì, buonasera, sono Carlo, chiamo da Padova, Carlo un po' più sintetico, del nostro telespettatore precedente, prego, prego, c'è Carlo? Sì, sì, certo, non ci sono problemi, volevo fare una domanda alla signora, quale? Mi metterà ansia Carlo, ne ho tre, la signora del PD, la signora del PD, la signora del PD è Abate Anna, eccola, adesso la inquadriamo sull'anno, la signora Anna che ha parlato dell'agricoltura biologica, certo, la domanda Carlo, vedi che interessa, allora, volevo chiedere alla signora questo, noi abbiamo un problema a Padova, che l'inquinamento a Padova è talmente importante, che è paragonabile alla città più inquinata in assoluto in Italia, lei mi viene a parlare di agricoltura biologica, quando noi invece abbiamo un grosso problema di inquinamento, io non sento nessuno di parlare di ambiente, non sento nessuno parlare di inquinamento, e però i dati che noi abbiamo, e sono dati dell'Università di Padova, dicono che in Italia si muore, si muore di inquinamento, come le morti degli incidenti stradali, quindi io vorrei capire, ma perché andiamo in cerca dell'agricoltura biologica, che un pomodoro costa 8 euro al chilo, e la gente muore di fame, io vorrei che la nostra agricoltura, forse agricoltura del popolo, che sia a disposizione di tutti, e che tutti possono avere quello che hanno bisogno, l'agricoltura biologica non esiste, dovete mettervela via, viviamo in un ambiente talmente inquinato, che l'agricoltura biologica non esiste, perfetto, non sarabbi, non sarabbi Carlo, di andare al mercato a Padova, prendersi la frutta normale, vendere la serbiologica, abbiamo sentito, grazie Carlo, se vuole rispondere rapidamente, vado da Nicola D'Apazzo, che deve ancora parlare, se vuole rispondere al nostro telespettatore, sì no, volentieri, mi dispiace che, allora, forse c'è un po' un, bisogna sapere determinate cose, che nell'agricoltura, allora, sono d'accordo con il Signore, che dobbiamo migliorare la qualità dell'aria, questo è uno sforzo che parte dalla cittadinanza, perché si sa che la qualità dell'aria è così, perché, in effetti, c'è un poco uso del mezzo pubblico, e un eccessivo uso del proprio mezzo, questo è un dato che è inutile nascondersi dietro questa cosa, perché quando si parla di polveri sottili, di inquinamento, si parla di quello, spedio solo un secondo, ma proprio velocissimamente, perché se non parlo un attimo dell'agricoltura biologica, certo, ma do una risposta alla persona che ha telefonato, quindi, certo, posso parlare, grazie, grazie, deve rispondere al telespettatore, poi c'è Nicola Rapace, c'è lui che deve parlare, ma la faccio parlare, grazie, Allora, l'agricoltura biologica, se non riusciamo a produrre in modo sostenibile per l'ambiente, l'inquinamento cresce a dismisura, cioè noi siamo in ritardo con la produzione del biologico, dobbiamo produrre sempre e forse tutto quasi biologico, se noi producessimo biologico di più, ci sarebbe meno uso di, noi sappiamo cosa avviene nell'agricoltura tradizionale, pesticidi, inquinamento, noi dobbiamo produrre biologico, e se produciamo più biologico, anche i prezzi si abbassano, i prezzi sono alti, perché il biologico è ancora, purtroppo, un po' di nicchia, in un certo senso, il mercato del biologico deve allargarsi, la qualità dell'aria è un tema molto importante, e non è così semplice risolverlo, si parte, con questo ambiente non si può fare il biologico, in parole povere ha detto così, si, il terrestriatore ha detto, con questo ambiente non si può fare il biologico, perché non si può, se mai si inizia, ha detto così, l'inquinamento va, non dobbiamo cercare di inquinare meno, noi italiani stiamo inquinando troppo, perché non abbiamo una coscienza ecologica, alla base nei comportamenti di ognuno di noi, si parla di cittadinanza attiva, in questo senso, troviamo un posto di lavoro a questa gente che non ce l'ha, perché qui altrimenti divagliamo, divagliamo, parliamo tutti bene, bene però, quella gente a casa che non ha il lavoro, qui i ragazzi giovani soprattutto, sono lì che ci mandano a quel paese, non trovando il posto di lavoro, abbiamo dei dati sull'emigrazione, dei cambi di residenza nei cittadini padovani, che sono impressionanti, sono 20 mila emigrati negli ultimi tre anni, questo vuol dire, e oltretutto sono quasi sempre emigrazioni, sempre meno, ma emigrazioni di persone che hanno studiato, e che hanno lavori altamente qualificati, solitamente, lavori altamente qualificati, che non riescono a trovare qui, è evidente che in un momento in cui, abbiamo sentito, letto un, dato una lettura della situazione molto complessa, abbiamo tantissimi pezzi di un mosaico, io penso che, più che una crisi, questa sembra una depressione economica, sta cambiando il modello di sviluppo, più che il 29, sembra a me, il 1873, quando cambia, arriva un'altra rivoluzione industriale, ed è arrivata, io faccio molta fatica a stare dietro ai ragionamenti che non prevedono questa cosa qui, cioè, stiamo producendo in maniera diversa, stiamo conoscendo in maniera diversa, stiamo vivendo in una maniera radicalmente diversa da prima, e dobbiamo iniziare a capire che, quello che è stato prima, non sarà più, quei 39 mila posti di lavoro che abbiamo perso in questa provincia, non ritorneranno come erano prima, saranno, li ricostruiremo su filieri di nuova economia, e dobbiamo sapere di cosa stiamo parlando, non possiamo avere solamente un pezzettino, io sono, guardi, una partita IVA, quindi so perfettamente di cosa, sono giovane, ho fatto l'università negli anni in cui è stata distrutta, e quindi ho perfettamente presente di cosa stiamo parlando, non basta, guarda, conosco benissimo anche i ragazzi del Dico Più, quindi, che hanno aperto un co-working, in mezzo a mille fatiche, cioè, ci hanno messo, me lo ricordo perché ne parlavamo, ci hanno messo anni per avere accesso a quel posto lì, allora, io non capisco perché, per esempio, ma è una banalità, ma perché al centro culturale San Gaetano, non ci debba essere un co-working aperto a tutti, anche perché un lavoratore autonomo, che va in giro per le città a clienti, a due ore di buco, in questa città non riesce neanche a connettersi, con i suoi computer e lavorare, perché questo è il fatto, sta saltando anche la divisione tra lavoro e formazione, è per questo che dobbiamo investire in formazione, perché dobbiamo costruire un sistema di formazione continua, allora, noi abbiamo una grandissima fortuna in questa città, abbiamo la fortuna che abbiamo un'università, un'università, una delle migliori d'Italia, e abbiamo, in questi anni abbiamo fatto pochissimo, e secondo me anche molto male, per trattenere le persone, per trattenere i talenti in questa città, per farlo bisogna costruire una città che sia attraente, bisogna costruire una città che sia vivibile, bisogna che Padova sia attraente nei confronti di Berlino, nei confronti di Francoforte, nei confronti di Londra, questo è il nostro, è il modo con cui riusciamo a costruire nuove filiere d'economia, dobbiamo attrarre più finanziamenti europei, e con i finanziamenti europei, i talenti, io, a me, gli ultimi dieci anni di questa amministrazione, mi sembra che siano interpretati, e sia interpretata una città di provincia, che gli va bene avere una qualità dell'aria abbastanza pessima, ma non proprio la peggiore, che gli va bene che qualche studente rimanga, ma non proprio che riesca a costruire delle nuove aziende, su questo il Comune può fare tantissimo, può fare un fondo di investimento, vi leggo dei punti del nostro programma, poi su padua2020.it c'è di tutto e di più, e ci sono anche per ognuno di questi punti, abbiamo trovato altri posti in cui queste cose sono state fatte, si può fare un fondo di investimento d'azionariato diffuso, ce ne insegna, credo, Fabio Salviato, che dal nulla ha costruito la prima banca etica d'Italia in questa città, dobbiamo fare uno sportello per far tornare quei 20.000 emigrati, dobbiamo e possiamo, noi abbiamo già parlato con manager o in pensione, o che sono disoccupati, che si offrirebbero per fare un'unità di progetto comunale, per aiutare allo sviluppo delle nuove imprese. Al di là che parliamo di lavoro, domani Padova 2020, come dicevo prima, la Claudia vince, e cosa fa? La prima cosa per far riprendere, non dico in un giorno, però rapidamente l'economia padovara, cosa fa? Allora, per risolvere il problema del lavoro, bisogna fare tutta una serie di politiche, che sono, che servono per sviluppare nuova economia, le prime cose che si possono fare sono, ad esempio quelle che vi ho appena detto, il marchio dei prodotti made in Padova, è una cosa che si può fare in breve tempo, il comune fa, mette, diciamo, ci mette la faccia, prima di aprire l'azienda che la faccia? No, 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 ma gli imprenditori della provincia di Padova. Ma se tutti quelli dall'estero dicono che abbiamo troppo di OCG, DOC, non ci capiscono niente, non vogliono made in Italy. Non è per l'estero made in Padova, non è per l'estero made in Padova. Tutti quanti non vogliono, allora, tutte le aziende, allora, io capisco che noi stiamo parlando qua, a Padova 2020 sta... No, a Padova 2020 ho parlato per mezz'ora, dentro questa trasmissione, perché abbiamo due ospiti di Padova 2020. non è niente ospettato per Padova. Siamo a casa loro, siamo a casa loro, vabbè, rispetto a casa agli altri, allora posso andarmene anche via. Però non possiamo dire che il made in Padova è una cosa sensata, perché tutti dall'estero non sanno cos'è. Ma non è all'estero che va il made in Padova, io cittadino padovano, voglio decidere di potermi comprare le merci che vengono prodotte nel mio territorio. Sì, ospite, posso dire una cosa da non camminare? No, le scarpe fatte a Padova le compriamo solo i palovani. Non va bene per Bittonci, io non sono con Bittonci. Non sei con Bittonci. Federico Buso, volevo dirle che Nicola Rappaccio, lui è con Bittonci, è Nicola Rappaccio, quindi l'ha fatto anche per Bittonci. Non è per dire perché se... Ma sta ripetendo le stesse cose. Lei lo può sommare quando ha parlato uno e ha parlato l'altro. E adesso è un bittimo di Bittonci. No, no, non sommiamo, lasciamo... No, no, io ragiono che ha detto due minuti di parole. Ma infatti deve parlare. Però se lo interrompete voi, e dunque non è perché ha parlato 20 minuti. Di solito è lei che interrompe, ha ragione. Io dovrei interrompere, Daniele Ruffini, perché dimenti lei va avanti tutta la sera di far parlare tutti quanti. Andiamo in pubblicità, prendiamo un po' di fiato, poi ritorniamo.